Ecco questo, questo una volta lo devi vedere, The Mission, capito? È geniale, è come se venisse da un altro pianeta, non so neanche, promettimi che lo non leggi e lo ascolti, va bene? Lo non leggi. Grazie, mi ha cambiato la vita. Lui con chi era? Maggie, i flauti, questa è la parte più bella. Per favore. Pronto? Pronto, mi senti? Sì, sono Miles, Amanda? No, mi dispiace, Amanda non c'è purtroppo. Sto cercando di capire come si apre il cancello. Culo. Molto gentile. Se l'ha sentito mi scusi. Salve. Salve. Mi dispiace, non sono pratica del cancello. No, non fa niente, è stato molto comico. Io sono Miles, lavoro con Ethan. Ethan... L'ex di Amanda, Lex. Ah, certo. Sì. Certo. Sa quando tornerà Amanda, dovevo prendere un paio di cose. Veramente Amanda è in Inghilterra, in Dacanza. Io starò qui un paio di settimane mentre lei è via. Oh, oh. Tutto bene? Oh, sì. Mi è entrato qualcosa nell'occhio. Ah, io non lo sopporto, mi faccio vedere. Eh sì, ha qualcosa tra le ciglia, vuole che lo tolga? Ah. Ok, grazie. Allora, è colpa del Santana. Prego? Del vento. È per questo che fa così caldo. Dice la leggenda che quando soffia il Santana, tutti i patti vanno all'aria. Tutto può succedere. Ecco fatto. Tutto ok? Ah, meglio. Grazie. E allora, lei dovrà... Ah, prendere il portatile di Ethan. E lei è il suo... Beh, anche io compongo musiche per film come Ethan, ma... Ah, e ha scritto lei questa? Questa? È bellissima. Sì, infatti l'ho scritta io. Ah, no, non è vero. Magari fosse vero. Questa è del grande Ennio Morricone. Le dispiacerebbe tornare domani? Voglio soltanto la conferma dell'assistente di Amanda. Certo. A proposito, io sono Irish. Miles. Certo. E questa è la mia Maggie, insomma. Solo Maggie, non la mia Maggie. Piacere. Ciao. Hai finito? Sì. Ok. Non volare via, Iris. Non volerò. Sì. Tutto basso cedere